E' sempre un'emozione, ancora di più quest'anno, ritrovarci qui in tanti, la famiglia Teatro Reggio è una famiglia di persone che si vogliono bene, che infatti si vede in queste occasioni, quando presentiamo una nuova stagione che per noi è sempre un po' un nuovo figlio, quest'anno è più nuovo del solito perché come avrete visto abbiamo cambiato tutta la comunicazione e la stagione che si svolge in un 2023, che è anche l'anno del cinquantesimo compleanno del nuovo Reggio, abbiamo una storia lunga, 283 anni, ma comunque il Reggio di Mollino venne inaugurato nell'aprile del 1973. Quindi grazie di essere venuti, grazie di essere in tanti, questo ci fa molto felici. Lascio la parola al sindaco Stefano Lorusso, presidente della Fondazione Teatro Reggio. Grazie davvero a tutti voi di essere qui, per me non nego è un'emozione forte, è di fatto anche un po' il debutto di una nuova fase del nostro Teatro Reggio ed è dentro questo quadro per me doppiamente responsabilizzante, sia come sindaco della città di Torino, sia come presidente della Fondazione del Teatro Reggio. Il Reggio sta tornando a regime, sta tornando a essere un'istituzione che lavora non in regime di emergenza ma che lavora in regime di ordinaria programmazione. Questo risultato è stato reso possibile da un periodo di commissariamento che ha attraversato la stagione della nostra istituzione lirico-sinfonica che si è concluso, si è concluso favorevolmente con la rimessa in quadro dei conti e soprattutto la piena operatività del nuovo organo e del nuovo vertice. Il nuovo Reggio ha una strutturale visione di consolidamento e anzi di rilancio dell'attività lirico-sinfonica nella nostra città. Tutto questo è reso possibile perché il Reggio ha partner importanti che credono profondamente e lo fanno da tanti anni nella nostra istituzione, i nostri soci fondatori che esprimono un consiglio di indirizzo che mai come in questa stagione storica è stato compatto e coeso nell'assumere le decisioni strategiche della nostra fondazione. E tra le decisioni strategiche c'è stata quella di individuare un nuovo sovrintendente, Mattio Gioven, che è qui alla mia destra, che attraverso una procedura a evidenza pubblica internazionale ha superato una dura selezione e al quale è stata affidata la conduzione dei prossimi anni del nostro Teatro Reggio. Conduzione che ovviamente in una situazione, in un'organizzazione complessa come questa, deve associare per forza di cose una visione artistica che rilanci e soprattutto consolidi la vocazione nazionale e internazionale del Reggio e un'attenzione ai conti perché non c'è casa che può stare in piedi se le fondamenta cedono e le fondamenta di un'istituzione lirico-sinfonica sono la tenuta dei conti. Per fare questo il sovrintendente ha un compito preciso, che è quello che gli è stato dato dal Consiglio di Indirizzo e ha dentro questa cornice uno straordinario patrimonio, che è il patrimonio dei nostri artisti, dei nostri tecnici, di tutti quelli che quotidianamente valgano la soglia del nostro teatro e ne producono la creatività e ne garantiscono la continuità produttiva. E allora è a loro che esprimo un doveroso ringraziamento perché so bene quanto sono stati duri questi anni, anni caratterizzati da una rivoluzione che è stata quella della pandemia Covid-19, una rivoluzione anche nella percezione generalizzata, una difficoltà strutturale, e c'è stata in tutti i settori della nostra vita, nella scuola, nel lavoro, c'è stata in maniera molto forte anche nel teatro. E quindi è chiaro che questa è una doppia ripartenza, è una ripartenza di un nuovo regio con un nuovo vertice, un nuovo Consiglio di Indirizzo, su basi decisamente più solide, ma è anche una ripartenza simbolica dopo gli anni di chiusura e del buio della pandemia. Il regio è Torino, Torino è il regio, e non è un caso che il sindaco da statuto presiede la fondazione del teatro regio, e intenzione del comune, della città che io qui rappresento, essere non solo a fianco del regio, ma essere soprattutto uno dei motori di sviluppo delle attività di questo straordinario patrimonio, che come viene ricordato ormai ha centinaia di anni, e sono contento anche che questo avvenga nel cinquantenario di ristrutturazione di questo meraviglioso edificio progettato dall'architetto Mollino. Quindi io ho finito, lascio la parola a chi ne capisce davvero, e non sono certamente io, grazie davvero a tutti voi di essere qui, quest'oggi con noi. Buongiorno a tutti, vi ringrazio per la vostra presenza oggi. Mi unisco totalmente al discorso del sindaco, e vorrei anche io fare qualche ringraziamento per iniziare. Prima di tutto ringraziare e salutare tutti i lavoratori del teatro, perché, l'ho detto già all'inizio del mio percorso qui, un teatro è un progetto collettivo, e questa dimensione, che sia all'interno del teatro o all'esterno, e vedo oggi tante persone che ho incontrato negli ultimi mesi con chi ho avuto questa bella collaborazione già, mi fa molto piacere e è veramente un punto di attenzione per me di poter rinnovare questo teatro con le sue squadre in stretta collaborazione e con un sviluppo di un progetto sostenibile, che sia dal punto di vista finanziario, ma anche sociale, e per poter fare il più bello arte possibile. Dunque, grazie ai lavoratori, e un saluto più che cordiale, molto caldo a tutti. Ringrazio dunque il Consiglio di Indirizzo, il suo Presidente Stefano Lorusso, ringrazio il Ministero della Cultura, la Città di Torino, la Regione Piemonte, i nostri soci fondatori, la Compagna di San Paolo, la Fondazione Banca San Paolo, la Fondazione CRT, IREN, senza di che non potremo fare quello che siamo da fare già in 2023, questo rilancio del teatro. Voglio anche salutare qualche persone che sono molto vicine al teatro, Giuseppe Lavazza, Presidente della Filarmonica TRT, Lisa Curti, Gian Piedro Reo, il nostro consiglieri, Camera, il Centro di Fotografia, grazie a che abbiamo potuto fare quella bellissima collaborazione, e saluto dunque Deca Mohamed Osman, una giovane ma già grande fotografa, grazie a che abbiamo potuto produire questo opuscolo, e veramente ti ringrazio di tutto cuore per il tuo lavoro, perché è un lavoro che ci ha emozionato tanto, dunque grazie molto Deca. Un design che ha di una certa maniera messa in scena le foto di Deca per questo nuovo design, come un simbolo di questa nuova era in che entra il teatro già in 2023. Vorrei anche ringraziare Sebastian Schwarz, qui presente, che mi ha aiutato in questi primi mesi a disegnare questa stagione, lo ringrazio per il lavoro fatto nelle ultime anni, Sebastian lascerà il teatro il 31 di dicembre, e saluto come un passaggio, che è il nome della nuova stagione, Cristiano Sandri, qui presente, che sarà il nuovo direttore artistico del teatro già dal primo gennaio. Passaggi, dicevo. Abbiamo concevuto questa stagione come il simbolo di una nuova era per il teatro, ma senza volere rinegare il passato. Per me la lirica è un'arte iscritta nella storia, ma iscritta anche nel presente, e dunque questa relazione tra il passato e il futuro è una ricerca continua che voglio avere nella istituzione, perché non è che il passato non ha più interesse, in contrario dà tante informazioni sul presente, e dunque di poter, grazie a un'arte che ha un tal passato, tracciare delle vincoli per il presente e la nostra preoccupazione. Dunque abbiamo voluto, facendo questa nuova stagione, avere questa relazione tra il passato e il futuro. Da questo ci saranno cinque titoli di produzione messa in scena, da che due sono producioni storiche del teatro e simboliche, non divulgo il nome subito, lascerò questa opportunità a Sebastian di farlo, e tre nuove produzioni per Torino, e anche qui sarà un ponte tra Torino e l'Europa, che fa parte, una parte importante del progetto per gli prossimi anni, dunque una produzione che arriva di Francia, una produzione che arriva di Germania, e una produzione che abbiamo coprodotto con il teatro alla Fenice di Venezia. Di più ci sarà un'opera in forma di concerto, del repertorio slavo, che per me è un grande simbolo perché sarà diretta da un direttore ucraino, ma ha un titolo russo, come un simbolo della relazione che può creare la cultura, la relazione positiva che può creare la cultura anche in questi tempi brutti di guerra. Passaggio anche sulla dimensione del pubblico, del teatro. Siamo molto attenti al pubblico storico del teatro, perché è per noi una forza, il sostegno che ha dato questo pubblico anche negli ultimi anni di pandemia è una forza per il teatro, e ringrazio veramente il pubblico per la sua continua attenzione, vedo oggi figure già conosciute, e mi fa molto piacere perché questa relazione continua fa la forza di un teatro. Il teatro senza il suo pubblico non è nulla. Nel stesso tempo vogliamo creare delle passaggi entre questo pubblico storico e un nuovo pubblico. Dunque, da questo vengono già qualche iniziative su 2023 che io vedo come un po' un assaggio di quello che faremo negli prossimi anni. E questa apertura al nuovo pubblico ci saranno diverse iniziative, la prima ci saranno per tutti i spettacoli un'anteprima dedicata al pubblico giovane di meno di 30 anni a 10 euro. E abbiamo già avuto l'accordo del maestro Muti per già iniziare questa iniziativa per il Don Giovanni il 16 di novembre. Dunque ci sarà un'anteprima per il pubblico giovane di Don Giovanni il 16 novembre. Siamo sviluppando un progetto con Off Topic e saluto Daniele Triniti e Anna Rita Masullo per poter fare di queste serate di anteprima più che una serata di teatro ririco ma anche una serata di incontro. Dunque per queste anteprima il spettacolo sarà seguito di un piccolo concerto qui nel Foglio del Toro con gruppi di musica pop di musica jazz con un programma in relazione con l'opera che sarà ripresentata sul palcoscenico per dare a questo pubblico giovane una nuova relazione al teatro e un'opportunità qui anche di creare passaggi di creare relazione incrociamento entre diversi arti diverse concezioni della musica per noi è una cosa penso molto importante e di dare la possibilità al pubblico a questo pubblico di incontrarsi prima della recita dopo della recita dunque un teatro ancora più aperto questo per me è una cosa molto importante di avvicinarci di questo pubblico di più per questo pubblico sarà proposta una regio card dunque una carta di fidelità che permetterà a loro di venire al teatro anche fuori dell'anteprima per prezi già da 10 euro e permettere questa apertura ancora più grande che già il teatro ha iniziato nel passato ma che vogliamo risviluppare e riempiarle di più saremo attenti al lavoro con le scuole e al pubblico ancora più giovane dunque siamo per riaprire il piccolo regio dopo una prima fase dei lavori che sono stati fatti e faremo ancora durante l'estate 23 più lavori per renderlo ancora più agivole e faremo qualche modifica sul palcoscenico le lavori sul palcoscenico grande sono stati finiti negli ultimi giorni ci sarà anche qui un'ultima fase nell'estate 23 per modificare ancora qualche punti che daranno al teatro una capacità operativa ancora più grande che quella nel passato come dicevo attenzione alle giovani siamo per creare un ensemble una troppa di giovani cantanti che vengono di tutta Europa per avere questa relazione continua e come simbolo anche dell'attenzione agli artisti un teatro ha un dovere verso il suo pubblico ma anche un dovere verso gli artisti che hanno sofferto tanto durante il periodo del covid dunque di dare questa possibilità a giovani cantanti a un momento della carriera che è il momento il più difficile entro i primi passi nei teatri e una riconoscenza di dare questa possibilità di passare un anno al regio con noi con un inquadramento particolare e per dare la possibilità di partecipare alle produzioni sul grande parco scenico ma anche alle produzioni nel piccolo regio è per me una cosa molto importante una cosa che condividiamo con Sebastian mi accordo ha fatto parte delle prime discussioni che abbiamo avuto insieme quando sono arrivato e per me è veramente un bel simbolo e anche una riflessione economica e sociale perché di avere cantante stabile come si fa in Austria in Germania in tutta l'Europa dell'Est è anche un'opportunità per il teatro di sviluppare un'attività continua in diverse dimensioni nel teatro fuori del teatro in diversi luoghi della città e dunque c'è veramente un pensiero pensiero dunque economico è il mio devere sulla base del lavoro fatto durante il commissariamento che ha ridato al teatro questa capacità di proiettarsi nel futuro e veramente sapete che la definizione chinese della crisi è una doppia definizione parla del pericolo ma parla anche dell'opportunità e vedo questo periodo come il periodo delle opportunità per il teatro di rinnovare di progettarsi nel futuro di una maniera sostenabile dunque una grande attenzione alla gestione sul 23 che sarà un anno molto difficile perché è un anno economicamente per tutti difficile siamo stati molto attenti di non aumentare le prezzi e una volontà che abbiamo condiviso con il consiglio di indirizzo anche questo come simbolo della voglia del teatro di fare attenzione al suo pubblico e penso che questo è forte che abbiamo fatto su questa dimensione spero che sarà molto appreciata ultima cosa c'è nell'opusculo le premisse della stagione di concerti che faremo in collaborazione con la Fira Armonica questa stagione iniziarà all'inizio di gennaio con una grande opera lascio anche la parola su questo a Sebastian Schwarz ma questa collaborazione tra il teatro e la Fira Armonica TRT per me è una cosa molto importante una cosa penso molto importante per i musici del teatro e saremo molto attenti a questa dimensione che sia per l'orchestra o per il coro di creare le condizioni che permetteranno a loro di esprimirsi della migliore maniera possibile dunque sono molto contento del rinnovo di questa collaborazione e ti ringrazio Giuseppe per questo per il lavoro che abbiamo già fatto insieme nelle ultime settimane grazie a tutti per l'attenzione e lascio la parola a Sebastian per entrare un po' nel dettaglio della stagione grazie è un grande piacere stare qui con voi e così siete venuti così numerosi e curiosi a finalmente tornare in teatro in questo teatro questo vostro nostro teatro a vedere delle opere a sentire dei concerti a seguire i nostri artisti sia quelli nostri qui del teatro cioè coro orchestra coro delle voci bianche e anche quegli ospiti due anni o non so ho smesso di contare dove il teatro magari ha per vari motivi non solo teatro ma tutto il mondo ha fatto parlare di sé per altri motivi e adesso finalmente possiamo tornare con voi il sovrintendente l'ha detto varie volte la parola opportunità l'opportunità nostra di far parlare la musica e di far parlare il contenuto di quello che succede in questo teatro il frutto del nostro lavoro è quello per cui siamo qui come teatro per cui lavoriamo tutti i giorni per voi e creare delle esperienze speriamo in certi casi non succede sempre ma in certi casi proprio indimenticabili per voi e per tutti noi che partecipiamo alla stagione una stagione che prevede in realtà nove titoli nove titoli d'opera alcuni in forma di concerto alcuni uno in realtà in forma di concerto alcuni al piccolo reggio alcuni nella sala grande anche qui l'opportunità bellissima di poter finalmente utilizzare di nuovo il piccolo reggio e incrementare la nostra produzione la nostra attività e la nostra offerta per voi perché ovviamente come sappiamo gli allestimenti su un palco così grande devono essere importanti e quindi richiedono tante giornate a volte anche per i nostri gusti troppi di montaggi smontaggi perché troppi perché sono giornate che voi non vedete come lavoro voi non vedete il risultato perché mentre qua si lavora duramente vorremmo arrivare al punto quando si potrebbero fare tutti i giorni spettacoli rimarrà un sogno però avvicinarci sempre di più ad aprire queste porte a farvi vedere delle opere dei concerti questo rimane l'obiettivo per sempre il programma spazia dal 1768 al 1995 ho detto prima ai nostri colleghi e rappresentanti sindacali che avremmo voluto anche iniziare diciamo più vicino al 1600 magari finire questo percorso anche cronologico più vicino al 2025 diciamo con dei titoli anche che devono ancora nascere ma bisogna accontentarsi con quello che è realizzabile nel tempo possibile e quindi quest'anno dal 1768 al 1995 aprirà se vogliamo considerare l'apertura della stagione anche se in realtà la nostra stagione è una stagione 2022-23 che aprirà fra poche settimane con il Don Giovanni e che integriamo con questo nostro annuncio fino a giugno quindi continueremo la nostra stagione dopo i balletti di dicembre con un barbiere di Siviglia che magari vi dite ma lo conosciamo già e sono contento che un'opera che è conosciuta che dà comunque la possibilità anche ad un pubblico che magari viene al teatro per la prima volta di avvicinarsi a questo capolavoro rossiniano abbiamo però deciso di portare a Torino una produzione che sarà nuova per il nostro pubblico che viene dall'opera di Strasbourg messa in cena da Pier Emmanuel Rousseau una produzione molto fresca giovanile colorata interessante bella molto bella che prenderà il posto del barbiere per questa stagione ovviamente teremo in proprietà anche la nostra stagione alla quale vi siete affizionati negli ultimi anni di Vittorio Borelli e Claudio Abbasso che rimarrà in repertorio rimarrà in magazzino verrà dato a noleggio ad altri teatri e magari un giorno tornerà anche sul nostro palco però per quest'anno è il momento di farvi vedere un'altra un'altra interpretazione di questo capolavoro dirigerà un conosciuto da voi direttore d'orchestra specializzato nel repertorio diciamo barocco classico e fino a Rossini si spinge Diego Fasolis un grande amico del teatro che ci ha accompagnato anche nel periodo degli ultimi anni con dei concerti quindi siamo molto felici di farlo tornare come direttore d'orchestra per una produzione ad opera i cantanti lo dico qua anche una volta perché abbiamo creato questa stagione anche in pieno rispetto di di una situazione creatasi nel periodo della pandemia quando abbiamo dovuto come tutti i teatri del mondo abbiamo dovuto cancellare delle produzioni o posticipare delle produzioni dei contratti con artisti che in quel periodo ovviamente non si potevano esibire e che noi non solo siamo tenuti a rispettare a recuperare ma sentiamo anche il dovere morale di recuperare questi contratti con artisti lo vediamo però anche questo come un'opportunità la parola del giorno come un'opportunità perché a volte riusciamo anche già in questa stagione di recuperare questi artisti in ruoli magari anche un po' più adatti rispetto a quello che avrebbero dovuto cantare nel 20 nel 19 nel 20 21 quindi siamo molto felici a poter riproporvi alcuni contanti che e artisti in generale che magari conoscete già e non avete potuto sentire negli ultimi anni quindi canteranno Santiago Ballerini e Nico Darmanin un tenore maltese il ruolo di Conte d'Almaviva José Maria Lomonaco e Mara Caudenzi il ruolo di Rosina John Chest baritone americano e Rodion Pagossov il ruolo di Figaro e così via abbiamo cercato i migliori cantanti per un certo repertorio disponibili in quei periodi a volte abbiamo spostato ovviamente dopo tanti pensieri le produzioni in quei periodi in quei periodi quando erano disponibili i migliori cantanti perché siamo consapevoli del fatto che qua parliamo del teatro regio di Torino e quindi ci vuole anche la parte vocale di una certa qualità quindi Diego Fasolis Pier Emmanuel Rousseau e questi cantanti molto interessanti in questa nuova visione del barbiere di Siviglia torna invece un spettacolo il sovrintente l'ha già menzionato uno dei spettacoli diciamo del marchio del teatro regio creato nel 2005 poi tornato nel 15 e adesso finalmente possiamo rivedere la nostra Aida di William Friedkin William Friedkin premio Oscar bisogna anche dirlo ogni tanto perché non è molto spesso che i premio Oscar si esibiscono anche nel mondo della lirica in questo caso questa bellissima produzione nata per un anniversario del museo egizio adesso possiamo finalmente riportarla anche se nell'anno del 150 anniversario dell'Aida non abbiamo potuto farvela vedere in forma scenica quindi adesso recuperiamo questa nostra promessa del 2021 abbiamo portato un direttore d'orchestra giovane ma molto interessante che ormai dirige in tutti i teatri d'Europa tutti i teatri importanti d'Europa e quindi non può mancare qui si parla di Michele Gamba che sicuramente avrete già incontrato alla Scala o anche all'Ossino Pra Festival e altre realtà importanti qui questo è uno dei casi quando abbiamo deciso di spostare il periodo in base alla disponibilità dell'Aida perché ovviamente ci interessa l'Aida e siamo felici di poter portare qua Angela Mead che è una delle migliori interpreti di questo repertorio verdiano che verrà a cantare nel primo cast mentre nel secondo cast abbiamo una nostra piemontese Erika Grimaldi che conoscete sicuramente ancora dalle varie collaborazioni con il maestro Noseda e siamo felici di far tornare anche in questa stagione alcuni artisti proprio nostri qui torinese piemontesi una delle quali ho già visto qua tra di voi e quando sarà il momento ve la faccio anche salutare Amneris sarà Silvia Petrami e Anastasia Boldireva Radames Stefano Lacolla che era già anche il nostro Radames nella versione in forma di concerto all'ingotto un anno fa in occasione della celebrazione del centocinquantesimo dell'Aida e anche qui vedete nel nostro programma già alcuni nomi che sono proprio quelli quei membri dell'ensemble o della troupe della quale parlava il nostro sovrintendente l'idea di questa troupe è come è stato detto di sostenere lo sviluppo dei giovani artisti perché tutti i teatri parlano della necessità e della grande voglia di avvicinarci ad un nuovo pubblico trovare nuovi pubblici non perdendo quelli che già abbiamo ovviamente ma tutto quello diventa inutile se poi fra qualche anno non avremo più gli interpreti da mettere in palcoscenico gli interpreti di livello e qua dobbiamo fare il nostro lavoro per condividere le esperienze fatte in anni e anni di lavoro da parte nostra da parte dei nostri collaboratori dei nostri maestri collaboratori per esempio i nostri pianisti le varie altre persone di certe competenze che possono condividere con i giovani artisti per prepararli per il loro futuro professionale e quindi questa troupe questo ensemble parteciperà in ruoli diciamo adatti non voglio dire i ruoli di fianco saranno i ruoli adatti alle loro capacità in quel momento nella sala grande come qui in questo caso nei ruoli del messaggero e della sacerdotessa e vedrete questi nomi a ripetersi anche in altri titoli abbiamo invitato cinque cantanti cinque cantanti che vengono da vari contesti anche oltre europei perché il tenore è una storia americana quindi abbiamo proprio un po' la rappresentazione dei cantanti un po' delle scuole di canto anche del mondo è un po' quello che è la lirica in realtà la lirica mette insieme sul palco e connette varie culture e persone che provengono da vari contesti culturali e linguistici per farli fare una cosa insieme la cosa più bella di fare insieme è musica perché qua non possiamo semplicemente cantare ma dobbiamo sempre cantando o suonando anche ascoltare uno o l'altro la scuola migliore la scuola migliore come sicuramente chi di voi è genitore ha vissuto nel far crescere i propri bambini far ascoltare e non solo parlare si impara facendo musica e in questo caso con i cinque cantanti che come dicevo provengono da contesti linguistici diversi ma qua parleranno italiano la nostra lingua dovranno impararla dovranno migliorarla non solo per cantarla bene ma anche per comunicare tra i colleghi e con tutte le maestranze del teatro quindi anche in questo un po' il teatro è ambasciatore della cultura italiana nel più ampio senso della parola anche qui all'interno dell'Italia dobbiamo difendere un po' i valori nostri della lingua e della cultura italiana l'Aida l'Aida con questi interpreti Michele Gamba William Friedkin il flauto magico è una produzione che avevamo già annunciato per il 2021 poi per ovvi motivi non si poteva realizzare e la produzione di uno dei più grandi registi operistici del momento a livello mondiale e l'australiano Barry Kosky che è anche il direttore della commercial opera di Berlino dove ha creato questa produzione proprio per avvicinare un pubblico diverso a Berlino magari lo sapete c'è una grande comunità turca che è venuta a Berlino negli anni 60 che è un po' vive comunque nelle loro realtà nel loro mondo e non tutti parlano necessariamente bene il tedesco il flauto magico come ricordate richiede non solo che si canti in tedesco ma ha anche i dialoghi che sempre sono un po' un problema nella realizzazione di questo capolavoro di Mozart perché cantare in tedesco o italiano nelle altre lingue si può imparare parlarlo bene a livello di parlarlo su un palco scenico quindi davanti ad un pubblico è tutta altra cosa quindi cosa ha fatto Barry Kosky lui ha tagliato i dialoghi e ha creato questa versione del flauto magico cinematografico che si basa sulla cultura dei fumetti dei cartoni animati ed è una cosa bellissima perché così se davvero bisogna dire qualcosa e non vuol far parlare i cantanti i cantanti è sempre meglio farli cantare piuttosto che parlare se non li vuol far parlare ce lo mette in due parole nel fumetto che vediamo nella proiezione quindi così la produzione è molto più vivace molto più fluida e anche comprensibile per tutte le culture e in realtà questa produzione gira il mondo da ormai 10 saranno 10 anni gira il mondo in Italia è stata vista solo una volta nel 2015 a Roma quindi lontano perciò sfido che qualcuno di voi che non è giornalista che non è critico l'abbia già vista quindi siamo molto felici di potertela presentare e sono sicuro che questa produzione anche qui a Torino riuscirà ad attrare un pubblico curioso e anche nuovo e quindi vi invito anche a voi di portare tutti i vostri vicini quelli che magari non ancora condividono la vostra passione per la lirica portatevi a questa produzione e sono sicuro che vi saranno molto grati dell'esperienza Il flauto magico verrà diretto da Sesto Quattrini anche lui è un direttore giovane molto interessante italiano che ormai anche lui dirige nei teatri più importanti italiani e ha già fatto quest'anno ci ha diretto una produzione quest'estate e non mi ricordo qual era era la Carmen forse era la Carmen sì quindi l'avete già visto all'arsenale e questa volta viene per Il flauto magico i cantanti anche qui alcuni specialisti per esempio la regina della notte Beate Ritter ha già fatto un po' il giro del mondo con questa produzione anche perché altro particolare la regina della notte e non solo in quest'opera deve essere come si dice non deve soffrire di vertigini ed è una richiesta proprio scritta nel contratto con il teatro per il noleggio della produzione che i cantanti devono avere certe qualità certe caratteristiche e in questo caso non deve soffrire di vertigini perché deve cantare da una posizione molto in alto che sembra quasi sospesa quindi già solo pensarla mi viene un po' quindi vedete anche voi Beate Ritter è una di quelle che non conosce paure è anche un po' nella natura della regina della notte chi canta notte di questo registro non deve avere paura oltre a lei tornano Alessio Arduini Joel Preto Giovanni Sala che attualmente sta provando col maestro Muti nel nostro Don Giovanni che l'anno scorso già ha cantato nel Così fan tutte con noi quindi un interessante giovane tenore italiano che ormai sta facendo strada torna la Shira Paciornik qualcuno di voi se la ricorda sicuramente nel diario di Anna Frank e magari qualcuno c'era anche alla recita della scuola dei gelosi quando ha dovuto subentrare con non so una mezz'ora di prova dopo cinque anni che non aveva cantato questo ruolo la scuola di gelosi chi ce l'ha nel repertorio era una di tre soprani nel mondo e ha dovuto diciamo recitare sul palcoscenico con l'iPad con lo spartito sull'iPad e comunque ci ha fatto credere che aveva fatto tutte le quattro settimane di prove e non aveva perso niente invece anche questa è una delle qualità che i cantanti di oggi devono un po' possedere ovviamente lei essendo israeliana ha servito nell'esercito israeliano per due anni come tutte le donne devono e quindi anche lei armata di tante tante competenze letteralmente dopo il flauto magico ci sarà questa coproduzione che abbiamo coprodotto con il teatro La Fenice di un duo di regista e scenografo costumista Barbe Dusset Renaud Dusset Andre Barbe che vengono dal Canada e hanno creato questa produzione poche settimane fa alla Fenice un titolo che manca qui al teatro da 29 anni come ci ha fatto ricordare il nostro fonico che è seduto qua dietro di voi ieri ad una presentazione perché era proprio la prima produzione con la quale è entrato a lavorare nel teatro e se posso dire lo coran pubblico ci ha detto annunciato che sarà anche la sua ultima produzione che poi ha l'intenzione di andare in pensione se lo lasciamo andare ovviamente questo è ancora da decidere quindi sono passati 29 anni del suo lavoro qui da noi al teatro Regio e sono passati 29 anni da quando si sono sentiti questi famosi 9 acuti dell'area di Tonio che richiede un tenore di particolare preparazione noi abbiamo programmato questa produzione in quel momento perché lo abbiamo e lo canterà lo affronterà John Osborne tenore americano di particolare ormai fama internazionale che l'abbiamo appena sentito alla Fenicia la prima ha dovuto nella seconda recita se ricordo bene ha dovuto bissare tutta l'aria perché il pubblico non voleva bastare non è che hanno pagato più di voi quindi direi se chiedete bene se applaudirete tanto magari farà il bis anche per voi chiedetelo a maggio avete l'opportunità è un cantante generoso quindi in questa occasione abbiamo anche qui la collaborazione con una nostra collega cantante meravigliosa torinese che è la Manuela Custer che sta qua con noi che voglio salutare siamo molto felici di averla che ha conquistato i palcoscenici italiani e non solo con i suoi ruoli rossiniani ne ricordo tanti e siamo molto felici che tornerà su questo palco in questa produzione nel ruolo della Marchesa di Berkenfield quindi non vediamo l'ora di vederti sul palco grazie un altro torinese di residenza torinese è il nostro direttore d'orchestra perché tornerà Evelino Pidò che è sicuramente a livello mondiale uno dei specialisti più importanti di questo repertorio belcantista e lo dirige alla Scala di Milano alla Stazio di Vienna attualmente sta dirigendo la Bohème al Covent Garden di Londra in questi giorni e quindi è uno dei più importanti direttori e ce l'abbiamo qui a Torino quindi abbiamo detto facciamolo anche lavorare qui e portare la sua esperienza a lavorare con i nostri professori d'orchestra e con le nostre maestranze come ultimo titolo in forma scenica nella Sala Grande abbiamo la Madame Butterfly diretta da Dmitri Jurovski un direttore di origine russa ma ha cresciuto con la sua famiglia proprio di origine anche ebraica a Berlino infatti parla meglio tedesco che russo ormai anche lui ha la casa tra Torino e Genova da qualche parte non so da che parte del Piemonte sta se è dalla parte giusta o della parte sbagliata più al sud questo non lo so casomai li dobbiamo far capire dove deve trasferire la casa casomai e lui dirigerà questa Madame Butterfly e abbiamo Valeria Sepe e Liana Harutunian si tornerà anche la Sepe e anche nel secondo casto in questo caso la Liana Harutunian che ha appena cantato questo ruolo al Cavern Garden di Londra quindi anche qui come vi dicevamo abbiamo cercato di portare i cantanti di più alto valore artistico canteranno anche Ramallah Hai Matteo Lippi Damiano Salerno che era il nostro ultimo Nabucco se vi ricordate prima della chiusura del teatro un progetto che mi sta molto al cuore è il sesto titolo del grande della stagione in questo caso in forma di concerto La sposa dello zar di Rimsky-Korsakov il grande repertorio russo il grande repertorio russo raramente eseguito perché Rimsky-Korsakov non lo conosciamo molto bene questa è una delle opere più belle della sua scrittura dove per la quale ha studiato le melodie popolari della Russia rurale e ha creato un linguaggio molto particolare molto bello e questa storia proprio che commuove sempre questa opera verrà diretta da Valentin Uryupin del ex direttore principale della nuova opera di Mosca che ha perso il suo lavoro come diceva il suo intendente qualche mese fa perché si è espresso contro la guerra e quindi pochi mesi dopo di aver iniziato il suo incarico come direttore principale l'ha dovuto lasciare e quindi anche qui anche questo è una forma di sostegno da parte nostra di voler sostenere i talenti come l'ho detto una volta in conferenza stampa noi mettiamo sul palco i talenti non i passaporti e il talento irrefutabile di Uryupin come anche quello di Rimsky-Korsakov e dei compositori russi non lo mettiamo in dubbio abbiamo al piccolo reggio dei titoli che verranno creati di nuove produzioni per esempio la Arca di Noè diretta dal nostro direttore del Coro delle Voci Bianche Claudio Fenoglio con la partecipazione del nostro protagonista di quest'opera proprio il Coro delle Voci Bianche magari i vostri nipoti o figli abbiamo una nuova produzione di Bastiano e Bastiana di Mozart e Powder Her Face di Thomas Adès del 1995 quell'opera che ho già menzionato penso che il sindaco già ha fretta di andare al prossimo appuntamento no? posso fare un'altra ora? Volevo usare trovare una scusa per poter finire adesso me l'ha tolta quindi va bene allora ci sarebbe tanto tanto altro da raccontarvi necessario ci sarebbe tanto altro da raccontare ma la cosa più importante è che venite a vivere questa stagione vi auguro un buon ritorno in teatro e ovviamente se ci sono delle domande siamo qui grazie grazie al direttore artistico sebastian schwarz visto che vi ha illustrato i titoli vorrei che partisse il brevissimo filmato che è stato realizzato da un design a partire dalle fotografie di decca mohamed osman che è qui con noi e dopo ci dirà intanto lo possiamo saltare quindi potremmo far partire dura un minuto così ci possiamo poi lasciare su note lievi delle fotografie di decca mohamed prego di decca mohamed grazie a tutti